Siamo a Sanremo, Radio Bruno Tantissime visualizzazioni, naturalmente lui parla in spagnolo ma anche benissimo l'italiano Sì, parlo l'italiano, ho vissuto molti anni qui in Italia, a Roma, otto anni e per questo parlo l'italiano Possiamo parlare in spagnolo, italiano, come volete Uguale, dai! Allora, Caliente, tantissime visualizzazioni su YouTube, un successo planetario Sì, grazie a Dio, la seconda canzone, il mio primo single che ho fatto È una canzone che ha più di 50 milioni di visualizzazioni YouTube su tutti i canali Abbiamo fatto tutta l'Europa, abbiamo stato in Francia, Svizzera, Italia Adesso stiamo in Italia facendo la presentazione del nuovo single Ma la verità è che sono molto contento di tutto questo successo che è arrivato di improvviso E come sempre dico, grazie a Dio per questa opportunità e a tutto il pubblico italiano che mi ha dato questa opportunità Parliamo allora del nuovo single, con chi l'hai realizzato? Il nuovo single viene con Lucenzo, cantante di Danza Kuduro Una canzone che ha spaccato molto anni fa È una canzone che viene molto forte, è una mescolanza di musica elettronica con musica latina Che è quello che facciamo noi, Electro Dance Latino Io credo che questo 2015 sarà un pezzo molto forte di tutte le discoteche È un bel mix, eh? Musica latina, insomma, è particolare La musica latina in tutto il mondo sta spaccando moltissimo, guardiamo Enrico Iglesias bailando queste canzoni che fanno ballare a tutto il mondo E quello che vogliamo fare, che facciamo noi, che fa Jay Santos e tutto il suo team di produttori Envy Music Facciamo una mescolanza di questa musica, la musica latina, i ritmi tropicali, caribeños e le percussioni latinas Ma senza dimenticare la musica elettronica europea, l'IDM, che ci piace perché abbiamo cresciuto qui in Europa Allora è una musica che abbiamo dentro nel cuore anche E voi fate delle produzioni che poi piacciono in tutto il mondo Quindi quale linea seguite? Avete, non so, una vostra linea guida e poi dopo tutto il mondo vi segue? Oppure sapete i gusti e da lì proseguite? Io credo che la musica si fa col cuore, no? Non si fa pensando se arrivi a qualche gente o per vendere La musica la facciamo, ci piace fare la musica Ma sempre abbiamo delle cose da dire, no? Sempre festa, sempre good vibes, buone vibrazioni, no? Quello che la gente vuole adesso... Buona energia Buona energia Allora facciamo fare festa alla gente, buona energia e divertimento Tanto divertimento naturalmente A proposito di divertimento, sarai live qui a Sanremo Questa notte siamo al Vittori Morgana e stai invitati Ah, siamo invitati, grazie A fare una festa questa notte E vamos a stare anche nel Vittori Morgana Un locale molto conosciuto, molto conosciuto qui a Sanremo È un'opportunità molto grande per me Sono molto contento, sono molto contento Grazie al mio manager Stefano Pugnali E grazie a voi per l'opportunità Invitati tutti a stampare questa notte Siamo tutti invitati E poi Sanremo, che cosa farei dopo Sanremo? Dopo Sanremo andiamo in Brasile a fare la registrazione a Rio di Janeiro Del nuovo single Vailame con Lucenzo Facciamo una registrazione diretta By Jesse Terrero Un produttore di videoclip molto conosciuto nel mondo E dopo facciamo un giro per tutta Latinoamerica Miami, Colombia Molti paesi di Latinoamerica Benissimo, allora buona volta del mondo Buon giro del mondo E musica Sempre Muchas gracias Ciao Radio Bruno Vi parla Jay Santos Esta notte sta caliente Ya lo saben Radio Bruno